Buonasera proprio di Facebook, Youtube e Twitter Messenger, siamo qui al mare Ischitello, guardate che comitiva ragazzi, stiamo facendo un grande video, guardate che comitiva, guardate che stiamo parlando, guardate, a vedere queste parole, un mese che stanno parlando da Ischitello, già la sappiamo questa canzone, guardate, presento tutti i ragazzi di Weekend Dance, c'è Alessio da Villaricca, Giovanni da Villaricca, Sabatino da Lucca, e c'è anche Alfredino da Mugnano, c'è Alfredino, c'è Mina da Mugnano, Marianne, c'è Antonio Finizio da Villaricca, bimbi, questi sono i bimbi, vogliamo salutare, scusa Mina, vuoi salutare un po' con le telecamere di Weekend Dance a qualcuno, vuoi salutare in particolare? Sì, dici vai Mina, tutti quelli che mi vogliono bene, ok, perché stiamo divertendo, siamo soft, dove siamo, a Formia? Formia? Gaeta, Gaeta, siamo qui a Gaeta, vuoi dire la spiace di Gaeta qual è? Bellissimo, no, ora siamo qui a Gaeta, ci vogliamo far vedere la spiace di Gaeta, vai, saluta, 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 saluta le telecamere di Weekend Dance, Giovanni, dove siamo qui, dove siamo finiti qua, Gaeta, a Formia? La spiace della, vicino al Lago dei Negri, acqua marrone, non l'anguadriamo là, però il lito è sissimato, guardate popolo, molto sissimato, è blu, è azzurro, è sissimato, sono anche le pezze che stanno scendendo, due pezze, due pezze, due pezze che, due pezze che, due pezze che, due pezze che, però non posso lavorare, c'è mia moglie a fianco, non si può fare, allora vediamo, Daniele si ha fatto i tatuaggi dietro, su, a Benedetto lo siamo, questo è il quartino suo, Luigi, mette le magliette, siamo un genio, perché che è successo? Già c'è la magliette, lui ha con la mano lì, la mia moglie, mette la magliette, già te? Ti è fatto a rostraire, come mette la carnacola, mettete giù, mamma mia, mi sono a rostridare, guarda, voglio fare un'azionata con il bambino, non l'amore, ma ecco qua, allora da qui esce morto, che perché vuoi fare questa giornata con il bambino? puoi cascare? puoi cascare? cicci cic bum bum che vuole? vuole il biscotto allora Daniele ti piace il biscotto? ti piace? ti piace? ti piace il gelatino? affrita dove ci troviamo? per tutta la gente che ci vuole male che gli dici tu? tiri 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 guardate a me e Antonio stiamo venendo da villeggiare guardate le maglie siamo con le maglie addosso perchè ieri poi volevamo fare i fighetti abbiamo arrosto un attimo dall'olio comunque noi vogliamo saldare a dove? un bacione a dove per tutto il povero io voglio salutare a qualcuno pure a qualcuno fuori io mi hanno appaggiato come ci dici tu? ti dici male che ci dici? e ti dici? ti dici? non saluto nessuno io brava pura mina e non ci giudicare ok? anche se è il sole non saluto non saluto non saluto non saluto